E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avete detto dal titolo andremo a vedere insieme come ottenere il cattiva condotta tramite la relativa quest. Vi scuso in anticipo per la voce ma purtroppo non sto molto bene. Il cattiva condotta come penso tutti sappiate è al canone portatile dedicato interamente ad azzardi infatti uno dei suoi perk ci permette di fare più danni quando siamo in azzardo ma adesso andiamo subito a vedere come ottenerla. Il primo step vi dico subito che sarà quello più difficile questo perché non dovrete impegnarvi particolarmente ma dovrete semplicemente avere fortuna infatti nelle partite d'azzardo potrebbe capitare che al posto del primordiale sponi una chimera ovvero un boss uguale a quello che abbiamo sconfitto alla fine della campagna dei rinnegati. Come ho già detto questo è totalmente random alcuni dicono che per farlo sponare bisogna uccidere il bersaglio del tuo profilo che questo faccia a sua volta sponare tre piccoli bersagli che una volta uccisi appunto faranno sponare questa chimera. E' effettivamente vero che una volta ucciso il bersaglio del tuo profilo questi tre piccoli boss compaiono ma io li ho sempre uccisi e la chimera mi ha sponato solamente tre o quattro volte. Inoltre questo boss sarà molto più difficile da buttare giù rispetto a un primordiale normale e sponerà a tutte due le squadre quindi se noi abbiamo evocato il primordiale e abbiamo trovato la chimera quando gli avversari evocheranno il loro primordiale troveranno appunto una chimera. Un consiglio che vi posso dare per non farvi sfuggire l'occasione di deciderla a primo colpo è quello di stare attenti alle piccole piaghe corrotte che si trovano ai lati di questa e che la rendono immune quindi appena vedete che questa diventa immune guardate subito in alto a destra e a sinistra e fate le piaghe più velocemente possibile. Una volta che avremo ottenuto la quest dovremmo semplicemente andare a parlare con il ramingo. Questo ci darà subito il secondo step ovvero quello di sconfiggere 25 boss corrotti. Questi noi li abbiamo uccisi nel settore perduto di Rea Silvia sulla città sognante. E' un metodo abbastanza veloce perchè si può raggiungere il boss senza fare tutto il percorso. E in una mezz'ora in taccela siamo cavata. Una volta fatto ciò sulla mappa della città sognante comparirà una missione. Questa è una rivisitazione dell'assalto alla corrotta. La maggior parte delle meccaniche sono uguali a parte l'inizio in cui dobbiamo scandalizzare una piccola traccia corrotta e il fatto che l'assalto devi dopo aver ucciso i boss. Noi siamo riusciti a farlo con due guardiani al 557 e 560 e uno al 570. Il consiglio che vi posso dare dato che il boss finale si affronterà su un piccolo meteorite galleggiante è di rimanere in casi estremi dietro alla roccia che vediamo in fondo al meteorite. In questo modo il boss non riuscirà a farci più di tanto danno. Una volta completato questo assalto otterremo la fase successiva della quest che dovremo andare a portare da Ramingo. A sua volta questo ci chiederà di raccogliere delle particelle e di vincere delle partite in azardo. Precisamente queste sono 10 partite da vincere e 400 particelle da depositare. L'unica difficoltà sta nel fatto che se perdiamo particelle la percentuale di quelle depositate scenderà. Per farvi capire ad una particella persa dovrete depositarne altre due. Quindi vi consiglio di giocare molto safe e di depositare alle particelle non appena ne avete 5. Una volta completata anche questa fase raggiungiamo l'ultimo step della quest. Questo ci chiederà di sconfiggere 25 guardiani in azardo e di effettuare delle uccisioni da invasore. Per quanto riguarda i guardiani questi valgono sia per quando invadiamo che per quando veniamo invasi. Le uccisioni da invasore invece vanno un po' interpretate. Questo infatti ci chiede di effettuare dei full team ovvero di uccidere tutti e 4 i guardiani quando invadiamo. Tuttavia c'è una facilitazione. Infatti abbiamo due possibilità. O effettuare noi un full team una volta invasi oppure far effettuare 3 full team dai nostri alleati. Io per esempio mi sono fatto carriera alla grande con i 3 full team di un alleato. Una volta quindi carrieremo completato anche quest'ultimo step ci basterà andare dal ramingo e riceveremo l'arma. Quindi ragazzi questa era la guida su come ottenere il cattiva condotta e il cannone portatile di azzardo. A breve uscirà anche la recensione sul canale quindi non perdetevela. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che non conoscete e che non conoscete che c'è la tradissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook e con ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao!